Liberi.tv, Nocera Marina. Siamo in compagnia di Fernanda Gigliotti che ha da raccontarci di un progetto di cui è l'ideatrice insieme ad altre persone che fra un po' vedrete e sicuramente ci parleranno di questa avventura che avrà inizio molto presto, speriamo, nel comune di Nocera Terinese e che riguarda gli animali che spesso e volentieri sono bistrattati proprio dai pedroni e quindi dovremmo parlare proprio di cultura, di rispetto nei confronti degli animali. Ma parliamo con Fernanda Gigliotti che sicuramente è la persona più indicata in questo momento. A te la parola Fernanda. Io intanto vi ringrazio di essere presenti sempre là dove c'è iniziativa per la difesa dei diritti civili perché per me i diritti civili sono anche i diritti degli animali e la civiltà di un paese si vede da come tratta anziani, bambini, animali e i defunti. Quindi quando io vado in un posto e vedo un bel cimitero penso che sia un paese civile, se vedo in un posto che ci sono cani abbandonati penso che sia un paese incivile, così come i bambini o gli anziani. E poiché ultimamente questo problema dell'abbandono dei cani è diventato un fenomeno enorme e che ci dà molto dolore ma anche preoccupazione oltre che ad impegnarci. Questa sera siamo presenti persone che già di loro danno da anni un servizio alla collettività perché si occupano di tutti i cani e di tutti i gatti abbandonati, i randaggi, dei cuccioli che vengono buttati quasi sempre nella spazzatura spessissimo anche nei fiumi e lì è difficile raggiungere ma ci sono molti animali che vengono praticamente uccisi nei fiumi, nei nostri fiumi, di cuccioli e abitudine. Noi siamo riusciti a intervenire fino a un certo punto, adesso è arrivata la saturazione, ognuno di noi ha molti cani da assistere, molti gatti da assistere, sul territorio le emergenze sono sempre maggiori, gli enti spessissimo sono assenti e noi pensiamo che come cittadini non dobbiamo più delegare nulla a nessuno e abbiamo pensato di proporre al Comune di Nocera la costituzione di un canile comunale che io però vorrei non chiamare di un rifugio, di un luogo all'interno del quale ciascuno di noi può prendersi cura di questi cuccioli abbandonati, può prendersi cura anche dei cuccioli di proprietà che normalmente molti proprietari responsabili fanno prima accoppiare, partorire, poi buttano i cuccioli e si riprendono il cane di nuovo in casa salvo poi ricacciarlo per farlo partorire fuori. È necessaria una cultura della legalità anche in questo, una cultura dell'adozione e anche una cultura della sterilizzazione, il randaggismo non lo sconfiggiamo se non pratichiamo la sterilizzazione dei cani maschi e dei cani femmine e così anche dei gatti femmine e maschi e noi faremo questo, noi siamo già un numero cospicuo di persone che si metteranno insieme, costituiranno un'associazione Ollus nella speranza, anzi a condizione comunque che il comune, quindi è una sfida che ci lanciamo tra cittadini e amministrazione comunale per realizzare qualcosa di utile per il territorio e la collettività e cioè noi siamo pronti a metterci la nostra faccia, il nostro impegno quotidiano, la nostra passione, il comune ci mettesse del suo, ci mettesse un terreno, ci mettesse l'opportunità di, anziché pagare un canile in convenzione, di avere un proprio canile comunale e quindi di ottenere un'autorizzazione dall'ASP e cerchiamo di educare alla cultura della legalità e quindi dell'adozione e della sterilizzazione i cittadini di Nocera Terinese e chissà poi a Catena non riusciamo a farlo anche nell'Interland perché se riusciamo veramente a sterilizzare tutti i cani del territorio nel giro di 10 anni il randaggismo sarà debellato se invece non riusciamo a fare questo nel giro di 10 anni con i cani esistenti salvo polpette avvelenate che è un reato e quindi chi pratica la polpette avvelenata potrebbe essere messo in galera se solo le nostre forze di polizia si decidessero a perseguire anche questo reato perché non lo fanno malgrado le denunce se invece quindi non riusciamo in questo progetto e senza polpette avvelenate saremo sommersi di randaggi poveri purtroppo come noi perché sono esseri viventi. Posso farti un'ultima domanda prima di passare magari la parola anche agli altri se vogliono intervenire. Logicamente l'associazione è ancora in costituzione, si parla, siamo agli inizi, però chi volesse partecipare non solo economicamente ma anche con un contributo fattivo di tempo perché tu parlavi prima che basta dedicare anche una sola ora al giorno per poter portare avanti questo progetto, come può rivolgersi a te eventualmente? Guarda sicuramente noi cercheremo di creare un'associazione che sia quanto più spersonalizzata possibile cioè io sarò a disposizione, credo che ciascuno di noi sarà singolarmente a disposizione ma spero veramente che questo progetto possa trasformarsi nel breve periodo in una organizzazione seria per cui avremo un sito, avremo una pagina facebook, avremo dei riferimenti, faremo dei turni, io immagino qualcosa di organizzato e di civile, di normalmente civile, diciamo europeo se fosse possibile questa parola anno c'era. Sarebbe già auspicabile, comunque parlavamo prima, lo diciamo giusto per chi ci sta ascoltando che si parlava anche delle scuole, quindi dei progetti che partono dalle scuole e dalla cultura che dovrebbe nascere nelle scuole. Ma perché il randaggismo nasce proprio secondo me con i bambini, perché i genitori regalano a Natale e i compleanni il cucciolotto perché fa trend, fa moda, perché c'è il labrador, c'è la carica dei 101 e quant'altro e poi però a Natale prossimo il cane non è più cucciolo, è adulto e quindi bisogna disfarsene. Se i bambini vengono educati non ad avere per forza un buon rapporto con gli animali ma a capire che non è un giocattolo, perché quando si prende un impegno, si prende un impegno con un essere vivente, non con un peluche, il bambino che non ha voglia, che vuole solo giocare deve capire che non è quello il suo giocattolo, non è che dobbiamo amare tutti quanti gli animali, però nel momento in cui ce li prendiamo dobbiamo avere una responsabilità e soprattutto non li dobbiamo abbandonare per strada, se non riusciamo ad averli in casa nostra e tenerli, anziché abbandonarli perché sulla strada avrebbero morto e sicura, avessero il coraggio di portarli direttamente in canile perché qualcuno che se ne occupa anche in una struttura terribile come il canile ci sarà, per strada no. Perfetto, nell'attesa che questa associazione prima o poi abbia un nome e quindi ce lo faccia conoscere anche a noi di Liberi.tv ringraziamo Fernanda Gigliotti per il suo contributo che come diceva all'inizio si interessa di diritti civili, in questo caso anche degli animali e dal comune di Nocera io vi ringrazio e passo la parola a Fernanda per i saluti. Beh io ringrazio voi, ringrazio tutti i presenti, spero che la prossima volta saremmo più numerosi sicuramente ci sono altre adesioni, vorrei se qualcuno di loro volesse integrare, aggiungere mi farebbe molto piacere se parlassero loro direttamente. Come vedi è molta la presenza femminile, non a caso. Ma io direi magari sono timide perché magari c'è la telecamera però fanno molto e almeno prima nel... sì no, ne dovremmo intervistare almeno una per puro diritto di replica, eventualmente un caso particolare, non lo so chi è che si vuole interessare di raccontarci un caso di un cane che è stato abbandonato. Sono felicissima di aderire a questa iniziativa, veramente è la cosa che desideravo. Possiamo dire nome e cognome almeno? Io, Brunella Macchione, sono felicissima, solo questo, cercherò di dare il mio contributo, cercherò di fare il possibile. Eh ma la ragione... sì ma... Sì ma c'è un motivo per cui uno decide di amare un animale e soprattutto di interessarsi al suo benessere, magari prima del suo? È scaturito tutto da una gattina che ho trovato moribonda, che l'abbiamo curata con tanto amore e da lì è nato il mio amore per gli animali. E adesso quanti animali abbiamo all'attivo? Ce ne abbiamo. Sì ma diciamolo, così magari qualcuno dice... Ne abbiamo, abbastanza. Non lo so, adesso passiamo ad un'altra ragazza che comunque ho visto qua vicino, che prima nel discorso si è definita gattara. Gattara, una gattara. Esattamente, cosa vuol dire? Diciamolo. Io adoro i gatti, li capisco, li... non lo so. È qualcosa... La versione diciamo moderna di Catwoman, versione... No, vabbè, anche lei amava i gatti, anche lei era diciamo un amante dei gatti. Io ti vorrei fare una domanda, giusto perché adesso ne voglio approfittare. Secondo te perché è importante al giorno d'oggi, soprattutto qui in un comune, magari piccolino come non c'era, interessarsi dei diritti degli animali? Vabbè, secondo me gli animali vanno rispettati perché sono esseri viventi, quindi l'importanza sta nel... almeno nel non maltrattarli. A me questo preme, perché quando vedo delle scene, cioè di ragazzi che lanciano pietre, a me è una cosa che... cioè come non si fa del male agli esseri umani, non si deve fare neppure agli animali perché anche essi sono esseri viventi. Apro una piccola parentesi. Secondo te, adesso partiamo un po' di cose magari un po' più filosofiche, gli animali hanno un'anima e quindi soffrono, quindi soffrono il dolore, soffrono anche se vengono legati a una catena e soffrono se vengono derisi, maltrattati. Secondo me sì. Sì, il cane poi è in maniera particolare. Il cane, anche se il padrone lo prende a botte, per il cane sei sempre il padrone. E' lui che ti chiede scusa comunque, tu mi picchi però ti chiedo scusa e è lui che cerca a mari di... Sì, il cane è una cosa... secondo me è un'anima perché alcune cose non si spiegano. Come consideri? Sicuramente consideri malissimo, però come puoi fare? Secondo te come si può fare in modo che le persone non abbandonino gli animali quando magari vanno in vacanza o eventualmente, non lo so, non li abbandonino quando partoriscono, come nel caso di Fernanda raccontava prima. Allora, avere una struttura di riferimento presso il proprio comune, che si occupi una specie di pensione, quindi non vederlo come un ostacolo per le vacanze e poi anche la cosa economica è sterilizzare un animale costa parecchio. Quindi dovremmo coinvolgere anche la sensibilità dei veterinari, di alcuni veterinari che riescono giusto a farsi pagare la spesa e non... Quindi speriamo che qualche veterinario in ascolto, magari anche qualche veterinario da poco praticante che magari si vuole fare conoscere e vuole, non lo so, per un attimo dare una mano a questa associazione nascente, possa farsi avanti e sperare che dal piccolo comune di Nocera cambino delle cose che poi sono importanti per tutta la provincia, per tutta la regione Calabria. Eh, speriamo. È davvero un appello ai veterinari che possono fare tanto. Con chi abbiamo parlato? Con Francesca Borzi. Benissimo, Francesca ti ringraziamo. Grazie a voi. Veliberi.tv per il momento è tutto, però noi seguiremo le vicende dell'associazione nascente che ci ha presentato questa sera Fernanda Gigliotti e speriamo che magari qualcuno si avvicini magari guardandola sul nostro sito che è www.liberi.tv, sulla pagina Facebook di ognuno di noi perché io credo che da quest'oggi ci interesseremo un po' di più ai bisogni degli animali, soprattutto perché che senso ha vivere in una società civile se poi siamo degli incivili nei confronti degli animali. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutti.